Allora, questa associazione è nata perché siamo stanchi di sopportare tutti i giorni un gruppo di una decina, spesso una quindicina, di spacciatori che si mettono all'angolo di via Ulanoschi con via Carlo Rolando e vanno avanti fino a circa mezzanotte. Siamo stanchi perché lo spaccio porta i tossicodipendenti, aggiunge degrado e mette in pericolo in qualche modo la nostra sicurezza. Ecco, questo è un po' il senso della cosa, per cui vogliamo che tutto questo finisca. Ci sono le condizioni perché questo finisca, perché alle nostre spalle in questo momento vediamo che ha aperto un ristorante bar e che è molto bello, quindi questo ci conforta però nello stesso tempo vogliamo che questo spaccio finisca. Naturalmente non può essere solo questo il motivo per cui abbiamo organizzato abbiamo messo in piedi questa associazione ma lo abbiamo fatto anche perché vogliamo presentare dei piccoli progetti di riqualificazione per questa zona, che ne ha assolutamente bisogno e poi vogliamo che la gente, quelli che abitano qui in questa zona si interessino al loro territorio perché l'unica maniera per riuscire a risolvere problemi di degrado è quello che la gente prenda in mano la situazione, si renda protagonista del proprio territorio. Oltretutto qua c'è un altro pericolo grave, cioè la speculazione degli immobiliaristi le agenzie immobiliari speculano su questo territorio e quindi i prezzi continuano a calare proprio perché esiste questo degrado. Ma ci sono anche a San Pier d'Arena, e qui finisco, ci sono anche delle cose molto interessanti abbiamo palestre, abbiamo spazi dove si fa sport, pallavolo, calcio abbiamo scuole musicali importanti, scuole di danza quindi bisogna che riprendiamo il territorio in mano.